Amichevoli di lusso a Rigamonti-Ceppi per il Sondrio Calcio. Tre acquisti nell'ultima settimana per una squadra che quest'anno punta al passaggio di categoria. Sicuramente puntiamo in alto, non ci nascondiamo. Ho creato una squadra per vincere, perché queste sono le ambizioni del presidente Michele Rigamonti e questo è quello che vogliamo raggiungere, salire di categoria. Un Sondrio che sta tenendo testa un lecco, che è tre categorie sopra, quindi i propositi sono buoni. Sì, questo fa piacere. Il risultato in questi amichevoli lascia il tempo che trova. Le cose primarie sono non farsi male, trovare amalgama, avere compattezza, personalità. Queste sono caratteristiche che poi serviranno a una squadra che deve recitare un ruolo d'assoluta protagonista. State sondando il terreno perché le prime tre partite di campionato sarete in zona Lecco e quindi cominciate già a respirare area di campionato. Sì, diciamo di sì. L'amicizia che mi lega con il mister Tacchinardi ci ha regalato un po' questa gioia perché, come diceva lei, sono tre categorie di differenze. Per noi è sempre un onore rapportarsi e confrontarsi con categorie professionistiche. La voce a Sondrio gira, tutti ci credono, in primis il presidente, l'anno che verrà, calcistico, sarà seguito da tantissimi tifosi. Questo è l'auspicio. Speriamo che ci seguano in tanti. Io, come dico sempre, non sono venuto da Rezzo per fare una passeggiata o per venire a mangiare pizzoccheri, ma perché voglio vincere. Questo è l'unico obiettivo che abbiamo. Grazie a Cristian Salvadori, direttore sportivo della Sondrio Calcio. In bocca al lupo e l'anno prossimo con la categoria superiore. Crepi il lupo, ce la metteremo tutta.